Benvenuti al capitolo 2, bentrovati! Vi dico subito che questa è l'ultima lezione che dedicheremo alla teoria, alla prossima ci addentriamo un attimino più sulla pratica perché molte persone vogliono giustamente iniziare a mettere in mano a Premiere, quindi è corretto cominciare subito a entrare nel vivo del montaggio video. Però questa è l'ultima lezione dedicata alla teoria ed è una lezione in qualche modo importante perché rapidamente affronteremo alcune tematiche che riguardano lo strumento principe per lavorare un buon video, vale a dire il computer. Una volta si utilizzavano le centraline di montaggio dove bisognava essere un po' dei sarti, bisognava lavorare con le forbici, con la pellicola, quanto ancora si lavorava in analogico, oggi siamo passati, forse per fortuna o purtroppo, non lo so, qui ci sono dibattiti in corso, al digitale e bisogna fare i conti con l'informatica. Quindi se volete fare i montatori di professione, se volete lavorare il video, dovete necessariamente avere delle nozioni base di informatica. Questo non è un corso di informatica, quindi queste nozioni non ve le darò io se non quando sarà strettamente necessario. Però il mio invito è, se volete lavorare in questo settore, cercate di costruirvi una buona conoscenza di informatica base, non dovete essere necessariamente dei programmatori. Sicuramente dovrete sapere quali sono gli strumenti che sono interessati dal montaggio video, quali sono gli strumenti hardware di un computer che sono interessati dal montaggio video. Non ne addentrerò troppo nei dettagli, sul mio sito www.fabioambrosi.it c'è la seconda lezione, il secondo capitolo del corso, eccolo qui, dedicato appunto agli strumenti hardware per il montaggio, dove rapidamente descrivo quelle che sono le infrastrutture hardware interessate dal montaggio video. Quindi parliamo della CPU, parliamo della scheda madre, parliamo della scheda video, importantissima la scheda video per lavorare. Parliamo ovviamente della RAM, parliamo delle ventole che devono ritenere la temperatura del nostro computer sotto controllo e parliamo ovviamente anche del cuore di un montaggio video, vale a dire dell'hard disk, no? L'hard disk, il disco rigido, è quel dispositivo che in qualche modo memorizza i contenuti multimediali che noi vogliamo lavorare. Avere dei buoni hard disk, non ve lo devo nemmeno dire, è importantissimo per avere la garanzia che il lavoro venga fatto senza intoppi e soprattutto che il nostro materiale non vada perso in qualche blackout. Quindi mi raccomando, occhio agli hard disk che comprate. Molti mi chiederanno e molti mi chiedono se è meglio utilizzare un Mac o un PC. Fate come volete. Qui ci sono scuole di pensiero le più disparate. C'è chi preferisce un PC perché è abituato con un PC, c'è chi ritiene il Mac superiore a tutto, a tutti e quindi ci sono scuole di pensiero. Quindi insomma non entrerò io in questo dibattito. Lascio anche qui a voi totalmente la scelta. Però ecco, se volete avere indicazioni più dettagliate su quelle che sono i requisiti minimi di sistema ma per lavorare un video in Premiere Pro potete andare sul sito della Adobe sul sito della Adobe cercate su Google requisiti minimi di sistema per Premiere e in qualche modo vi esce questa pagina. Vediamo, magari metto il link nei commenti. E qui trovate un attimino i consigli che Adobe vi dà per procurarvi un hardware all'altezza minima. Un hardware minimo, ecco. Quindi magari vedete che vi chiede almeno 16 giga di RAM, nel consiglio 32, vi chiede un processore almeno di sesta generazione, Intel. Diciamo, ma qui sono i requisiti minimi insomma per il Windows e anche per il Mac. Ok, a seconda della piattaforma che voi scegliete. Chiaramente la scheda video è importantissima per il montaggio. La scheda video purtroppo vale la regola, purtroppo, aggiungo, vale la regola che per avere una buona scheda video dovete investire un minimo di quattrini. Schede video economiche purtroppo daranno anche prestazioni minime. Quindi ecco, se dovete solo fare un copia e incolla, un taglio ed esportare un video senza aggiungere effetti complessi, magari una scheda video di modeste qualità può andare bene. Però ecco, se dovete iniziare a lavorare con la color correction o applicare effetti un pochettino più complessi, purtroppo dovete investire almeno 4 o 500 euro purtroppo per la scheda video. Anche qui Adobe consiglia... Vediamo se lo trovo... Sì, mi sembra che era qui... Adobe consiglia delle schede minime... Eccole qui... Delle schede, diciamo, certificate da Adobe sia per quanto riguarda gli adattatori Nvidia sia gli adattatori AMD. Anche qui sul sito dell'Adobe trovate queste informazioni. Non mi addentro perché veramente dovremmo dedicare praticamente un corso solo all'informatica per il montaggio e non mi sembra il caso. Nella prossima lezione cominceremo a scaricare Premiere e cominceremo ad utilizzare Premiere. Registratevi al mio canale YouTube, iscrivetevi, venite a visitarmi su www.fabbiambrosi.it e visitate la mia pagina su Facebook per restare sempre aggiornati sui nuovi tutorial. Dai, che finalmente dalla prossima lezione apriremo Adobe. Alla prossima!